No, mi veniva da ridere perché scorrendo i commenti sulle dichiarazioni di Raiola a proposito di Pogba e De Ligt e tornando sul fatto che avevo detto che con Raiola i giocatori stanno 3 massimo 4 anni in una squadra e poi lui li porta via credo che uno di voi abbia vinto il premio Fantozzi perché mi faceva notare che evidentemente questo è un comportamento che Raiola adotta solamente con i top player perché Bernardeschi è ancora lì e non se lo porta via a Raiola e chissà perché oggi Bernardeschi ha lasciato Raiola e ha firmato per Pastorello quindi ha cambiato procuratore e quindi devo dire che adesso giustamente non faccio nomi ma viene da ridere proprio leggendo questo commento chi ha scritto questo non è colpa tua eh ci mancherebbe altro però possiamo dire che vinci il premio Fantozzi che tra l'altro è un premio di un certo spessore eh perché insomma Fantozzi è sempre Fantozzi quindi non toccatevi Fantozzi ditemi a caso la scena di un film di Fantozzi e io vado avanti a recitarvi quella successiva quindi io perché sono un cultore di Fantozzi quindi perché Fantozzi perché Fantozzi permea la vita di tutti noi lui aveva visto 40 anni fa quello che succede oggi e che succederà sempre è l'esasperazione se vogliamo della nostra vita ma tutte le cose che ci capitano durante la giornata badateci bene sono riconducibili a Fantozzi quindi vabbè dai parliamo di altro parliamo di di Juve adesso leggevo la possibilità di Pogba di ridursi lo stipendio se viene mantenuto il decreto crescita la possibilità di risparmiare insomma sì ma sono operazioni che ragazzi veramente richiedono in questo periodo storico di carenza di pecunia richiedono ovviamente molti voli di fantasia e la realizzazione di molte fantasie poi non è così non è così semplice insomma la Juve ha lavorato molto di fantasia in questi anni con l'acquisizione di chiesa con i due anni di prestito quella di Locatelli ancora più articolata del resto se i soldi non ci sono bisogna bisogna in qualche modo inventarsi qualche cosa però sai non sempre poi bisogna vedere anche l'interlocutore che ha insomma non è ripeto minoraio cioè non è facile con lui inventarsi qualche cosa di importante di proficuo no per portare a termine una trattativa e poi quando sento ancora adesso parlare di Vlaovic già a gennaio veramente lì la fantasia deve toccare dei livelli pazzeschi perché non ci credo finché lo vedo cioè non e poi faccio fatica a crederci anche se lo vedo che Vlaovic ha la Juve a gennaio no ma no ma veramente o è o impazzisce commisso improvvisamente e accetta delle condizioni incredibili pazzesche ma poi devi liberare un posto per Vlaovic non è che puoi prendere anche un altro attaccante e aggiungerlo a quelli che hai diverso il discorso del centro campo perché effettivamente al centro campo tu i posti li puoi liberare vedasi Ramsey vedasi Rabiot spero non McKennie ecco perché io ne parlavo anche oggi con dei colleghi McKennie in questo momento è molto importante per questa squadra poi va da sé che se arriva un'offerta effettivamente non dico irrinunciabile ma insomma di una certa consistenza è chiaro che nessuno è incedibile no specialmente in un periodo come questo qua e siccome McKennie è abbastanza seguito soprattutto all'estero io voglio sperare per la Juve che non parta che non vada via non stiamo parlando di un fenomeno siamo siamo tutti d'accordo su questo ma è un ragazzo che ultimamente ben inquadrato da o ben instradato se vogliamo da Allegri è un ragazzo che adesso sta dando notevole apporto alla Juventus notevole apporto alla Juventus è sicuramente gli si era drizzata la testa perché prima era un po' storta ha un fisico un po' più asciutto perché prima si lasciava andare a diciamo così una dieta molto nordamericana ecco è poco professionale se vogliamo e si vedeva insomma e indubbiamente poi il piedi non è scarso c'è tutt'altro quindi tutte queste componenti fanno sì che McKennie possa essere considerato in questo momento una pedina molto importante e spero spero che che la Juve non non si privi di questo giocatore non è facile trovare gli argomenti voi lo sapete perché poi sul mercato io potrei anche inventarmi qualche cosa in questo momento adesso leggevo su OneFootball che Zaccaria preferirebbe andare a giocare nella Premier League vorrei capire sulla base di che cosa si dice questo visto che la Juve comunque è molto presente su questo giocatore questo ve lo posso riconfermare ve lo confermo ogni giorno che non significa che arriverà sicuramente Zaccaria ma insomma che la Juve sia molto attenta su questo giocatore è un dato di fatto ragazzi sabato non è solo Lazio-Juve lo sapete no? Sari c'è sabato ecco il lapsus proidiano sabato c'è la guerra dei mondi c'era un film intitolato così la guerra dei mondi e sabato c'è la guerra dei mondi e Sarri contro Allegri o Allegri contro Sarri sono le due scuole di pensiero calcistico quantomeno con riferimento all'Italia diametralmente opposte sono due persone che si stimano moltissimo attenzione perché non c'è nessuna rivalità tra i due anzi c'è molto rispetto dell'uno nei confronti dell'altro sono due toscani si fanno le battute tra di loro e mi ricordo un particolare importante che disse Sarri quando si incontrano non parlano di calcio non parlano di calcio forse voi mi direte perché parlano due linguaggi completamente diversi e quindi è anche difficile imbastire una conversazione calcistica tra di loro onestamente sì immagino che quando fai parlare due persone di due tesi completamente opposte sia difficile trovare un dialogo e un punto di incontro o meglio il punto di incontro c'è sempre è il vincere poi per Sarri non è forse la cosa più importante ma ci tiene anche lui a vincere indubbiamente perché era molto contento di aver vinto lo scudetto con la Juve snaturando il proprio gioco snaturando il proprio gioco per Allegri è tutto la vittoria ovviamente e qui si sposa in pieno con la filosofia bianconera il famoso cortomuso il musetto davanti ti fa capire che per lui conta innanzitutto vincere come se giocando bene giocando male di culo o perché ti sei imposto sull'avversario poco importa l'albo d'oro è lì che parla però sarà molto interessante vedere come si affronteranno e sono convinto di una cosa per quanto si stimino per quanto non posso dire che ci sia proprio un'amicizia ma che comunque per quanto ci sia un ottimo rapporto tra loro due è chiaro che questa partita la sentono la sentono particolarmente poi loro fingeranno di buttare tutto sulla Lazio e sulla Juventus ma che Sarri specialmente ci tenga a battere la Juventus e prendersi una piccola rivincita nei confronti del mondo Juve questo è innegabile perché è innegabile che ve lo ricorderete bene Sarri lo intervista io dopo la partita contro il Porto e disse che ci sarebbe stato qualche correttivo da trovare vi ricordate le sue dichiarazioni voi mettete in dubbio l'intelligenza e le capacità del management da Juventino se pensate che mi vogliono già sostituire dopo un anno semplicemente perché non siamo andati avanti in Champions non fosse avanti intuito qualcosa questa fu una frase molto molto intelligente che lui buttò lì e ricordo benissimo Allegri sull'Ate Agnelli che proprio quella sera disse ci incontreremo in settimana e faremo il punto della sua azione il giorno dopo lo esonerò quindi sicuramente non ha un bel ricordo quantomeno a livello dirigenziale della Juventus ha mantenuto probabilmente qualche rapporto con qualche giocatore perché comunque c'erano giocatori che lo stimavano altri un po' meno però che lui ci tenga a battere la Juventus sabato io ci metto la mano sul fuoco ma non perché solo perché fa tre punti con la Lazio perché batte la Juventus ed è normale è giusto è regolare è logico ed è anche umano e al tempo stesso io credo che Allegri abbia tanta voglia di riaffermare la propria supremazia su Sarri perché nei cinque anni in cui è stata la Juve Allegri ha esercitato quasi in toto la sua supremazia su Sarri quindi sarà una partita molto interessante ma ne parleremo meglio magari domani grazie di avermi seguito anche questa sera se vedetevi al canale se vedetevi a quello del mio figlio mettete like iscrivetevi sui social se lo sapete già tutto ciao a domani